Ancora qualche giorno per poter rivedere all'opera la nostra Dinamo. Dico la nostra perché accomuno tutto quello che è il corollario che accompagna il grande lavoro del GM Federico Pasquini. Ne avevamo parlato in tempi non sospetti, ma probabilmente siamo stati anche buoni profetti per quello che ultimamente riguarda i nostri colori. Sì, l'avevamo detto onestamente che eravamo contenti a prescindere dalla classifica di come stava evolvendo la situazione e di come la squadra stava reagendo a un nuovo equilibrio. Sono orientati i giocatori, siamo tornati ad essere sani, abbiamo avuto l'assenza di Gera nelle ultime tre partite, ma abbiamo sopperito bene. Adesso è evidente che entriamo nella parte importante del campionato, siamo contenti di essere quinti, siamo contenti di essere padroni del nostro destino. Cerchiamo di guardare indietro il meno possibile, ma se lo guardiamo, guardiamo in maniera serena sapendo che abbiamo fatto un percorso che è normale, che possa averci dei momenti up, dei momenti down. Il nostro è un percorso che purtroppo è passato in mezzo a diversi infortuni, ne siamo usciti fuori bene e adesso vediamo di andare a completare l'opera. Rimpianti zero, questo mi pare di poterlo sottolineare anche da quello che hai detto in conferenza stampa, alle domande dei colleghi. È facile perché a un certo punto dopo che c'è una sorta di cambio di rotta tutti diventavano quasi dei premonitori, però non era così perché bisognava fare i conti con un cambio in corsa importante. Io continuo a sottolineare che Onoaku era nelle corde di questo tipo di Dynamo e peccato che poi non ha continuato in quello che poteva essere il suo futuro in Sardegna, però di necessità virtù e soprattutto grande merito a quei ragazzi che a testa bassa hanno continuato a lavorare. Sì, devo dire che alla fine non conta il valore oggettivo del giocatore, ma conta quanto il giocatore può essere funzionale per il gruppo. È evidente che Onoaku è un grande giocatore, non mi sorprenderà se facesse una grandissima carriera, però per quella che era la situazione di quel momento lì, un giocatore come Stephens ci ha permesso di avere degli angoli offensivi e delle qualità a livello difensivo e tali per cui il talento di ogni singolo giocatore ne ha tratto vantaggio, cioè fondamentalmente oggi questa è una squadra che allarga molto il campo, questa è una squadra che gioca leggera perché sa che può correre, ma dall'altra parte sa che può averci due pivot, Stephens e Diop, che sono capaci di bloccare 4-5 volte la palla durante il piccherone nella stessa azione e questa è una cosa che poi alle difese dà sicuramente da pensare, cioè voglio dire Bars che è l'undicesimo di Brescia diventa decisivo nella Final 8 perché si fa male Cobbins e perché Bars fondamentalmente fa quello che fa Stephens e quello che fa Diop, cioè blocca la palla in continuazione ed è molto bravo a passare la palla su questi tagli di mezzo, questi short roll che permettono ai tiratori di avere sempre grande spazio e da lì ne ha tratto vantaggio i vari della Valle, Massimo e compagnia bella, da noi ne ha tratto vantaggio Cruz, Lindo, piuttosto che Benjus, piuttosto che Kess quindi sicuramente in questo momento stiamo bene con Stephens Ultimissima cosa, si riprende da qui a qualche giorno, la squadra è già a lavoro chiaramente sul parquet del Palazzo Radivini e arriva a Venezia Venezia è una di quelle squadre da prendere non solo con le molle, diciamo anche con delle pinze molto lunghe Sì, sono durissimi, è un test chiaramente molto molto pesante vengono comunque da un cambio epocale da un punto di vista tecnico-tattico perché l'esonore di Raffaele chiaramente porta a rivedere un pochettino tutto è evidente che come capita spesso quando ci sono questi cambi dell'allenatore ci sono giocatori che hanno vantaggio, giocatori che hanno svantaggio però una reazione nervosa c'è sempre, per cui dopo due settimane e mezzo che si sono trovati fermi anche loro perché sono usciti subito in Coppa Italia con la Virtus mi aspetto una squadra che verrà qua per fare una grande partita per loro una partita direi quasi chiave per avere una posizione sulla griglia alla fine che non sia diciamo complicata, cioè non andare in bocca subito a Milano e Bologna per cui mi aspetto che la giocheranno veramente in una maniera molto dura, molto intensa sarà subito un banco di prova importante per noi per capire se siamo ancora quelli che hanno chiuso prima della finestra abbiamo già rilacciato i fili e possiamo andare avanti o seppure dobbiamo rivedere alcune cose e ripartire con calma i ragazzi stanno lavorando bene, questa è la cosa importante per cui quando abbiamo salute, quando siamo al completo, se recuperiamo Gerald insomma voglio dire diventiamo molto intriganti per cui credo che sarà comunque a prescindere un bello spettacolo c'è il ritorno di spesso qua, sarà una bella atmosfera, sarà un sabato sera insomma ci sono tutte le cose per divertirci noi ci saremo ah beh, noi c'è sempre